parliamo di calcio siamo in collegamento con daniele grosu nuovo difensore del treviso football club innanzitutto daniele ciao e grazie per aver accettato il nostro invito grazie a voi allora daniele per prima cosa che cosa ti ha convinto ad accettare la proposta del treviso football club beh sicuramente gli obiettivi che si sono messi fin dall'inizio ovvero quello di accedere alla lega pro e traguardi che vogliono raggiungere sicuramente la voglia del direttore di avermi so che nello scorso mercato aveva chiesto al padova di avermi però il padova ha detto di no e quest'anno invece se è concluso così l'affare vengo in prestito per un anno tu sei come detto un terzino sinistro quali sono le tue caratteristiche principali come giocatori al di là di questa specificità insomma beh sono un giocatore molto utile nel senso che posso ricoprire diversi ruoli come ad esempio il terzino menzala quinto di centro campo esterno offensivo sia dalla parte sinistra che dalla parte destra e mi reputo un giocatore tecnico e veloce e come giocatori mi ispiro specialmente a te Hernandez per la sua velocità e Marcello per la sua tecnica per quanto riguarda il modulo invece hai un modulo prediletto oppure anche qui ti sai adattare hai giocato con vari moduli con vari schemi in campo beh nel corso degli anni abbiamo cambiato molti schemi nel senso dal 3-5-2 al 4-3-3 faccio presto ad ambientarmi se ad esempio giochiamo nel 3-5-2 posso fare il quinto di sinistro di destra oppure posso fare i 3 di giocatore di centrocampo e invece se giochiamo a 4 posso fare l'esterno offensivo terzino oppure mezzala mi adego facilmente quindi a seconda di quello che ti chiede l'allenatore e tu ti sai adattare ecco sì sì esatto parlaci invece del tuo percorso sportivo come sei diventato appunto calciatore e parlaci del tuo percorso a partire dalle giovanili insomma allora io ho iniziato all'età di 4 anni e mezzo giocando sempre nel calcio padova e sono passato poi nella selezione dell'academy dove ho fatto un anno e poi da lì mi hanno preso nel settore giovanile dove ho fatto l'altra fila ovvero partendo dall'under 14 fino ad arrivare alla primavera e poi esordire in prima squadra ecco e non dimentichiamoci che sei attualmente anche player della nazionale moldava under 21 esatto l'ultima settimana della scorsa stagione sono stato convocato con la nazionale under 21 però in passato sono stato parte anche dell'under 14 fino appunto all'under 21 e spero un giorno di poter esordire nella nazionale maggiore com'è il calcio così come concepito appunto per quanto riguarda la nazione moldava di cui sei originario beh sicuramente a pari mio è un calcio diverso però comunque c'è gente che se ne intende ecco siamo sempre i ragazzi che vengono maggiormente sia dall'estero che dal posto e ci adeguiamo facilmente anche se non ci conosciamo bene ecco un calcio quindi in crescita chissà dire la sua a questo ci vuoi dire e per quanto riguarda le tue potenzialità e il direttore Gementi ha detto che sei un giocatore con grande qualità e con un potenziale molto interessante sei d'accordo con questa definizione beh penso di essere comunque un giocatore che vuole crescere sicuramente ambizioso e ho una voglia matta di aggiungere molti traguardi ecco e penso che Treviso sia stata la scelta giusta per me in questo momento anche perché so che il mister ha ricoperto il mio ruolo e spero mi aiuti dandomi consigli ecco soprattutto per il mio futuro quindi penso che Treviso sia stata la scelta giusta per me ecco sapiamo inoltre che ti è particolarmente simpatico il tuo prossimo compagno di squadra Nunes da Cugna ecco come mai siete amici vi conoscete? no però oltre ad essere un giocatore al Padova sono sempre stato un tifoso ecco andavo sempre a vedere le partite e ai tempi di Nunes al Padova mentre facevo raccata palle ecco cioè lo seguivo quasi sempre quindi per quello sono molto curioso di giocare insieme a lui e per quanto riguarda invece il numero della tua maglia quale numero ti piacerebbe avere e perché? beh la scorsa stagione col Padova ho scelto il 28 per la data di nascita di mia sorella nata il 28 marzo e beh se sarà disponibile punterei a quello se no verremo ecco sei un tipo o quantomeno ci sembra un tipo molto molto ambizioso e con le idee chiare quindi come si possono riassumere i tuoi obiettivi di squadra e i tuoi personali? beh l'obiettivo di squadra penso sia quello appunto di raggiungere la promozione Lega Pro vincendo e arrivando primi e come obiettivi invece personali penso che appunto Treviso sia stata la scelta giusta per me e voglio mostrarmi ecco e far capire che posso starci anche nel mondo dei grandi ecco un'ultima cosa ma non meno importante un saluto un messaggio che vuoi dare fin d'ora alla piazza bianco celeste sono pronto e sono carico e non vedo l'ora di scendere in campo ecco chiarissimo direi chiarissimo e dunque per averci parlato di sé e delle sue ambizioni ringraziamo di cuore Daniele Grosu difensore del Treviso Football Club per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi